Una frase meravigliosa, dice la Chiesa, cioè i cristiani, vivono in questa terra fra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio. Scusate se vi ripeto, ma riprendiamo le persone a cui piace lamentarmi. Conoscete persone a cui piace sempre lamentarmi? Vengono a lei e ti tirano fuori tutti i loro problemi, perché qua, perché tu... Sarebbe da dire loro, e vi autorizzo, queste sono le persecuzioni del mondo, bravo, le hai viste bene. E le consolazioni di Dio? Cristiano, vivere il mondo tra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio. Non vi vuoi dire solo le persecuzioni del mondo. Dove stanno le consolazioni di Dio? Dove stanno le consolazioni di Dio? E allora forse oggi, anticipando quello che poi farete stasera, come tutte le sere, che contate le 5 cose belle che Dio vi ha dato, adesso magari salendo alla prossima stazione, potreste contare tre consolazioni che Dio vi ha dato oggi. Oggi è troppo poco, il treno le trovate, da ieri mattina a oggi. Le trovate tre consolazioni? Ecco. E chiediamo a Maria, magari di vedere anche la sua mano, dietro tutte le consolazioni che ci arrivano. O Madre Santa, generosa, fa che l'esperienza della nostra debolezza non ci scomenti fino a faccia abbandonare la via della croce, unica speranza di salvezza. Rendici umili nel riconoscere le nostre cadute, comprensivi e solidari verso tutti coloro che cadono sotto il peso quotidiano della vita. Amen. Grazie. Grazie. Grazie.